Pietro, dopo una serata così, la prima volta in Città del Capo, come ti sentite? Benissimo mi sento, mi sento benissimo. Mi senti benissimo? Con i clienti ragazzi come te, benissimo mi sento. Ah, con i clienti come me, un tedesco della Germania in Sud Africa. Vieni anche domani! Vieni! Ok, adesso mi sento qualcosa, mi sento molto bene. Dimmi, questo che abbiamo mangiato stasera, è stato un menù proprio per la Città del Capo? Hai detto, faccio così per la prima volta, com'è? Allora, alcuni sono piatti per Città del Capo con la nostra cucina e altri sono la nostra tradizione. Perciò, la storia e il futuro insieme nel menù. Pietro, vedi, io ho capito in Cappo con la mia città del Capo. E perciò, tu adesso, perché ho un amico che mi hanno chiesto, perché io mi sono messo su Facebook. Pietro, vedi, sono qua per l'apertura. Quando sei qua? perché io ho detto domani c'è su Facebook l'interesse di prenotare perché sono sicuro è già difficile dall'inizio di dicembre di prendere un tavolo in qualsiasi ristorante qui allora devono già prenotare adesso per venerdì sì abbiamo aperto le prenotazioni per il 2019 come si vittesco di germania italiano di Italia vittesco ha detto che abbiamo già già ieri bucho bis all'in 2019 se quando voi come venerdì qui in la Villa 47 es io mi provo e io metto in questa domanda dovete prestare perché non avete più chance per india quindi prestare e il bucho grazie per il mio padre grazie ci vediamo domani domani ah ok grazie ciao